Venezia 73, incontriamo il regista Ethan Pitiliani di ritorno da Los Angeles, cortometraggio Like a Barter, quanto è successo questo cortometraggio? Guarda, devo dire che è stata una bellissima avventura che è nata un anno fa, coprodotta con Falcon Productions e Rai Cinema e abbiamo avuto dall'inizio, da quando Ed Asner, che è l'attore americano, che è una leggenda del cinema e della televisione americana, da quando lui ha dato l'ok al progetto abbiamo cominciato a sognare e questo sogno poi è diventato realtà nella finalizzazione del film che, devo dire, ha superato le migliori aspettative grazie a tutto il lavoro dei reparti, da Paolo Vivaldi che ha fatto le musiche, a Daniel Katz che ne ha curato la fotografia, Alberto Spiazzi i costumi, è stata una bellissima avventura, il cast è eccezionale perché, come dicevo, ci sono Ed Asner, Cindy Pickett, Will Rotar, è stata una bellissima emozione poterlo realizzare a Los Angeles che è una città per me straordinaria che ha un valore emotivo, pazzesco come Londra e come Roma dove sono nato e da lì poi è diventata un'avventura che si è, diciamo, allargata molto fino a toccare vari paesi, tra cui l'Italia e tra cui appunto, sì, mi fanno notare, perché io non me ne ero accorto, che ho la locandina del film, lui è Ed Asner, è l'attore, ok, va bene, Ed Asner e queste sono le partecipazioni che il film ha fatto e abbiamo appena debutato al Chinese Theater a Los Angeles, a Hollywood e abbiamo presentato il film anche all'Oscar Qualifying Rhode Island International Film Festival, siamo a quota 25 se non sbaglio e le prossime tappe sono fra qualche giorno, mentre noi siamo qui a Venezia, sarà proiettato al Festival di Sacramento, credo il 7 settembre se non sbaglio, cioè fra due giorni, e sarà poi presentato in selezione ufficiale al BAFTA Recognized Esterica Film Festival di York a novembre, poi sarà presentato in prima romana al RIF, Roma Independent Film Festival, curato da Fabrizio Ferrari, volevo fare un ringraziamento a tutti, ciao a tutti, Venezia è stupenda, come vedete abbiamo veramente un gioiello in Italia ed è un'emozione essere qui, quindi grazie a tutti. Grazie a tutti